restiamo in tema la settimana scorsa il castello appartenuto a Federico II a Barletta ha fatto da cornice alla prima edizione di Wedding Castle tutto sull'organizzazione del matrimonio settore trainante soprattutto in Puglia e a proposito di organizzazione ci sono professionisti seri che organizzano dalla A alla Z la cerimonia con rito civile il rito religioso è diventato un po' antico diciamo oggi la novità più bella più interessante per i ragazzi che vanno contro il matrimonio è il rito civile Lisa è un'esperta di rito civile che cos'è questo rito civile? Il rito civile è lo strumento che lo stato italiano mette a disposizione delle coppie per diventare una famiglia c'è una modalità per svolgere questo rito civile con la grandiosità del rito religioso per esempio voi come la fate? abbiamo creato un metodo che permette alle coppie che scelgono di sposarsi con rito civile di farlo in maniera personalizzata emozionante e coinvolgente mettendo a disposizione la nostra esperienza le nostre competenze perché la cerimonia parli degli sposi noi rispettiamo fedelmente il protocollo del codice civile che funge da guida quindi ci permette di celebrare in maniera emozionante e dignitosa l'amore di due persone che decidono di sposarsi e farlo rispettando appunto quello che lo stato civile prevede ti definisci una ceremony planner che vuol dire? la ceremony planner è la figura che supporta gli sposi perché venga fuori da loro quello che lega entrambi quella che è la relazione la loro storia individuale e la loro storia come coppia non ti sei improvvisata in questo ruolo vero io so che hai molto studiato abbiamo voluto approfondire la materia ci siamo rivolti da esperti del settore e personalmente ho seguito moltissimi corsi che mi hanno in qualche modo formata e mi hanno permesso di capirne di più ed ora questo studio approda in italia e rende il matrimonio civile un nuovo grandissimo evento grazie grazie a voi grazie a voi grazie a voi